Infine abbiamo avuto l'occasione di provare una vettura del tutto particolare, molto divertente, non siamo passati inosservati da nessuna parte, si tratta della Daihatsu Coppen, vediamola. La Daihatsu Coppen offre sensazioni e particolarità che risultano difficili da trovare nelle offerte automobilistiche odierne. Una vettura del tutto originale, che a guardarla risulta simpatica, con la quale potete andare in giro in versione coperta o scoperta come una vera Roadster e che addirittura ha gli ingombri contenuti per circolare senza problemi in città. Aggiungendo al tutto un motore Euro 4, grintoso al punto giusto, come per offrire emozioni ma senza esagerare, con consumo contenuto di benzina ed una spesa di acquisto che varia tra i 18.500 e 19.500 Euro. Questa è la sintesi della Daihatsu Coppen, che abbiamo provato grazie alla gentilezza di Daihatsu Italia. La due posti secchi di Daihatsu è comoda sia per il guidatore che per il passeggero, con tutti i comandi al posto giusto, con l'unica pecca di dover cercare bene i pulsanti di apertura del baule e del tappo della benzina, che si trovano all'interno del bauletto centrale, posto tra i due sedili. Il volante a tre razze in pelle della Momo e le finiture degli interni offrono un'atmosfera del tutto particolare all'interno della piccola giapponese. La strumentazione di bordo è circolare e la console centrale è molto spartana come design, anche se per la verità possiede tutto quello che è necessario per il comfort di marcia. Nei nostri giri di prova abbiamo sempre attirato l'attenzione ed un sorriso dovuto al particolare design, molto riuscito sia come linee tondeggianti che come ingombri, di solo 3440 mm di lunghezza, 1475 mm di larghezza e 1245 mm di altezza. Completano il design da cartone animato il posteriore, con i due tubi di scarico di sezione tonda, posti in mezzo e tutto l'insieme di linee e gruppi ottici che la rendono veramente unica. Ah, riguardo il bagagliaio, scordate di portare grandi valigie, oppure dovrete semplicemente viaggiare in versione chiusa per fare posto nel bagagliaio posteriore. Il tettuccio si apre in solo 20 secondi, azionando il pulsante e restando in attesa del bip che segnala il completamento dell'operazione, ricordando di tirare il freno a mano e di sganciare il tettuccio manualmente prima di iniziare l'apertura. In versione aperta si vedono bene il roll bar, utili per la sicurezza, ben rifiniti e anche molto belli da vedere. Sotto il cofano è stato alloggiato un motore a benzina da 4 cilindri 1,3 litri, costruito in lega leggera di alluminio, 16 valvole, con albero a camme in testa, iniezione elettronica multipoint e valvole a fasatura variabile, che permettono di ottimizzare il consumo. In poche parole, con la piccola simpatica giapponesina, si possono raggiungere i 180 km all'ora di velocità massima e la coppia massima è di 120 Nm a 3.200 giri. L'assetto della Daiatsu Coppen permette una guida sportiva, infatti è sempre incolata a terra ed offre reazioni immediate ai comandi del conducente, grazie al peso contenuto in solo 850 kg e ad un'ottima distribuzione dei pesi. La simpatia e lo spirito particolare di questa vettura permettono di perdonare la rumorosità durante la marcia in versione chiusa, ma bisogna dire che complessivamente è molto piacevole, ben impostata e qualitativamente valida, anche perché costruita in Giappone in uno stabilimento interamente dedicato alla Coppen, in poche parole, bella e simpatica. E così in questo modo che noi finiamo la puntata numero 14 di Motor News, noi vi ringraziamo per averci seguito e sarà alla prossima settimana sempre in questa rete e a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.